Dal nuovo al pulcino, aggiornamenti sulla nuova farmacia di Marsciano. La nuova farmacia di Marsciano si farà all'ammeto all'interno del centro commerciale Le Fornaci. È quanto emerge dall'esito della gara per la gestione della licenza della quinta farmacia marscianese. È stato infatti reso noto il risultato e ad aggiudicarsi la gestione per 20 anni della licenza sarà Giulio Lattanzi di Capanne, che con 96 punti ha sbaraiato gli altri pretendenti. L'offerta presentata è stata di 1.300.000 euro a fronte della base d'asta di 800.000, oltre al 3% del fatturato della farmacia. Ricordiamo come la quinta farmacia sia stata al centro di mille polemiche, prima sul tipo di gestione, se completamente pubblica, come sosteneva l'opposizione di sinistra, o se pubblica ma gestita da privati, come di fatto è stata realizzata. L'altra polemica era sulla collocazione zona Ponte, Nestore o Ammeto. La scelta della zona aspettava al vincitore della gara, che ha indicato come zona preferita proprio quella di Ammeto, in corrispondenza del centro commerciale. Anche un altro partecipante all'asta aveva proposto questa collocazione, mentre in un caso è stata proposta via Tuderte. L'unica incertezza ora resta solo un ricorso al TAR, presentato da un paio di mesi, sulla regolarità o meno del bando stesso. Al momento la sentenza è stata rinviata a fine gennaio. A presto!